Scura, c'è un'intercettazione, lei è con Paolo Orofino, un collega molto bravo che fa inchieste per il quotidiano del Sud e ha usato parole molto dure, diciamo, sui politici calabresi. Se riusciamo a mandarla in onda la facciamo vedere? Eccola qua. E lei dice, lo capisce sì o no che il problema è politico, non è un problema tecnico per Dinci. Che cosa pensa? Perché tutti questi tentativi sono falliti? Cioè il tentativo di controllare queste società advisor che verificano i buchi, quelli che noi chiamiamo buchi, che praticamente non servono a niente queste società per poi se non si risolve. Orofino dice, vuol dire che la Calabria deve rimanere così? Massimo Scura, se noi calabresi non facciamo nulla perché cambi e non stiamo facendo nulla, ci meritiamo questo. Sì, non abbiamo chance, non abbiamo futuro. Scura, è così? Non c'è possibilità? Prego. Allora, prima mi sono dimenticato di dire una cosa veloce. No, 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 mi risponda. Scura, a un minuto, Scura, a un minuto. A un minuto mi risponda. C'è la possibilità per la Calabria di avere un futuro con questa classe politica? Perché lei è molto duro in questa intercettazione della Guardia di Finanza. La classe politica, quando un commissario va a denunciare alla procura di Reggio Calabria e alla procura di Cosenza, dove ho denunciato un furto di un milione e centotredici mila euro, non fa niente e invece manda a casa il commissario che ha denunciato per sostituirlo con un generale e un prefetto oggi. ottime persone, dei galantuomini, ma del tutto incompetenti in organizzazione sanitaria. Non c'è speranza. Se invece ci va a lavorare gente che è capace, la speranza c'è. Perché noi ci abbiamo provato a cambiare. E lei lo sa. Perché se Campolo è morto, è morto mentre faceva questo lavoro. Il lavoro insieme a me, insieme ad altri due dirigenti, di cercare di tirar fuori questo debito pregresso che non si riesce a calcolare. Quindi è inutile che continuiamo a tirare su un paio. Ho un tassativo pubblicitario. Mi spiace, ho un tassativo pubblicitario.